L'azienda Doria 1905 L'azienda Doria 1905 è un'azienda che da 110 anni ripropone questi cappelli fatti a mano, artigianali, con materiali di pregio. Quindi sono questi gioielli del Made in Italy che piacciono particolarmente agli stranieri. C'è un particolare gusto da parte del mercato statunitense, del sud-est asiatico e di tanti altri mercati anche dell'Europa che scelgono il prodotto italiano di qualità, che abbia una storia da raccontare, che abbia un valore artigianale, un valore di stile naturalmente. Il cappello è un accessorio indispensabile che trasforma il look e dà un tono particolare, va sdrammatizzato, va abbinato in modo originale. Abbiamo proposto una capsule collection con questa cinta fatta con un pizzo speciale ed è il punto maglie, in punta di ago, un lavoro di 150 ore per realizzare soltanto questa cinta con questi simboli tipici dell'artigianato salentino che è stato ripreso. Sono pupo, pupa e stella. La collezione Spring Summer 2016? Si chiama Viaggio a Levante perché è un immaginario viaggio verso l'Oriente. Si parte dal tema del barocco, quindi abbiamo capelli bianchi con cinte che sembrano dipinte, poi abbiamo un tema che è piaciuto tantissimo, che è il tema del colore. Abbiamo capelli di paglia colorata, i colori vitaminici, il kiwi, la lavanda, la menta, il mandarino, che sono molto divertenti, piacciono agli uomini, alle donne. Un tema legato invece ai colori della terra, quindi il verde, i toni bruciati, la paglia, quindi questi colori naturali che ancora si riconfermano come un trend dell'estate. Infine abbiamo tutti i toni del blu, questa moda un po' diciamo nevi con il bianco e il blu associati, ci sono cappelli con una corda che ricorda proprio il tema della barca. Questa corda che si può anche togliere e ti dà un tocco, un po' nevi poi tu lo puoi utilizzare nella tua vita normale senza essere per forza legato a questo tema.